Sono molto felice di dare il benvenuto ad almeno due pagine al giorno su RBI Radio TV ad Aldo Rapè in collegamento con noi. Ciao Aldo, buongiorno. Buongiorno a voi, grazie, grazie dello spazio, del tempo che dedicate a tutte queste cose belle. Cose belle assolutamente, ma sono molto più che cose. Intanto, di che cosa stiamo parlando? Intanto parliamo di questo signore qui accanto a me, un artista multiforme, fondatore della compagnia teatrale cinematografica. Ce ne racconterà un po' meglio se ha voglia lui poco fa. Tra poco, prima quinta, una realtà siciliana che però nel frattempo, negli anni, siamo a dieci anni Aldo, se non sbaglio, di vita, di questa realtà artistica che nasce in Sicilia, ma che sviluppa il suo lavoro sempre più a livello nazionale ed internazionale, con produzioni che hanno un focus particolare sulle questioni e sulle tematiche sociali. Ovviamente sto semplificando, ma poi Aldo ci racconterà meglio, perché l'attenzione da sempre, diciamo, di Aldo, che è il direttore artistico di prima quinta, ma anche il fondatore dell'associazione che è poi diventata una società di produzione cinematografica e teatrale, il cuore è quello dell'attenzione al sociale, però attraverso un racconto che è un racconto sociale, emozionale, diciamo, che sta molto dentro il tempo che viviamo. Intanto Aldo, prima di parlare del festival che arriva alla seconda edizione per un pugno di terra festival, per i nostri ascoltatori, per i nostri spettatori, anche ad altre latitudini, rispetto a quelle campane, a quelle siciliane, ci racconti in poche battute che cos'è prima quinta e di che cosa si occupa soprattutto, Aldo? Guarda, l'hai raccontato in maniera anche bella e emozionale tu nell'inizio, ti correggo solo su una cosa che nasce come associazione in Puglia, nel mio girovagare, insomma, artistico, nasce in Puglia da un gruppo di ragazzi che finiscono dai laboratori teatrali e decidono di investire sulla cultura, dopodiché le trasformazioni di ognuno di noi nella vita, chi va via, chi ritorna, che ci si... prendo un po' in mano questa realtà che già era nata, seppure in forma di associazione culturale, la trasformo negli anni e comincio a occuparmi di arte a 360 gradi. Ecco, vorrei dire questo, non è... perché? Perché credo che l'arte, la dimensione sociale, io credo che l'arte sia sociale, nel senso che chi si pone la volontà di fare qualsiasi forma d'arte deve guardare il mondo attorno, non si può estraniare. Poi nell'atto creativo magari, ecco, ci estraniamo, però quello che ti fa nascere la necessità anche di questo festival e delle produzioni nasce sempre da qualcosa necessario per te. Ecco, magari non lo è proprio per gli altri, però per quello che ti accorgi che sta succedendo nel mondo. E quindi poi nasce questa realtà, adesso ha le sedi sia a Napoli che in Sicilia, si occupa di teatro e di cinema, con tante difficoltà, è sempre in salita, ma a noi piace il percorso e mai la meta, quindi il divertimento per noi è sempre questa salita e ci auguriamo sempre che sia in salita e mai in discesa o piana, ecco. Mi dicono ma un giorno arriveremo in vetta, ma chi la vuole sta vetta? A me interessa questo invece, perché? Perché in questo percorso, secondo me, stiamo toccando lo straordinario. Lo straordinario è fatto non solo dei prodotti che facciamo, che quelli dicono sempre, dico sempre che è la scusa, Francesco, poi per stare un po' insieme e di incontrarci. Questo festival è la stessa cosa. Non lo voglio tenere. Hai detto una cosa bellissima all'inizio, presentandolo un piccolo festival. Io voglio che rimanga sempre un piccolo festival, perché nelle cose piccole, secondo me, c'è ancora la qualità del lavoro artigianale. In questo senso il nostro festival e così le nostre produzioni. Siamo andati ovunque, continuiamo a lavorare sia in Italia che all'estero e ci interessa molto parlare dei territori, soprattutto quelli un pochettino più dimenticati. Assolutamente, ma intanto voglio aggiungere un elemento importante, altrettanto importante. Tu parli di un lavoro, quello di Prima Quinta, del tuo lavoro, poi in particolare che entri dentro storie e personaggi necessari. Tu parli di necessità. E questo festival, tra l'altro, vi consiglio e vi suggerisco di farvi un giro sul sito di Prima Quinta, un sito rinnovato da poco, PrimaQuinta.com, in cui potete farvi un'idea del lavoro e del percorso di cui parlava Aldo poco fa, del percorso artistico di Prima Quinta, di Aldo e del suo gruppo di lavoro, del suo laboratorio costante, di questo cantiere permanente di attività artistiche che coinvolge continuamente un numero straordinario di ragazzi che si avvicinano al teatro, che si avvicinano al cinema, che si avvicinano alle arti performative, mi viene da aggiungere. La necessità nasce da raccontare il presente. Per esempio, aggiungo questo e poi ritorno da Aldo, il lavoro che Prima Quinta fa da anni, da più di dieci anni, sulla questione delle migrazioni è un lavoro prezioso. Ci sono dei cortometraggi che potete anche recuperare sulla piattaforma MyShort, ma insomma ci sono anche documentazioni sul sito di Prima Quinta. che raccontano, come dire, il lavoro personale e anche di comunità rispetto all'accoglienza, ma anche ai problemi, diciamo, che può creare la dimensione delle migrazioni. Ci sono dei corti potentissimi, come per esempio Cuore Nero, che insomma sarà anche all'interno di questa edizione del Festival, che racconta proprio anche questa difficoltà. La necessità, noi stiamo parlando di un festival che si chiama Per un Pugno di Terra, che arriva alla seconda edizione, che parte lunedì, primo luglio, fino al 13 luglio in Sicilia ci sarà un appendice in campagna in Umbria, poi a settembre, ma in ogni caso, oltre i confini e le macerie, è il tema di quest'anno. Aldo, allora, qual è l'esigenza, la necessità, torniamo su questo elemento, la necessità che vi ha portato a pensare a questa seconda edizione del Festival? Aldo. Ma guarda, doveva essere un'altra, ok? Non dico ovviamente il titolo, che magari la sfruttiamo per altri liti, però guardandoci attorno abbiamo visto, ecco, sicuramente le prime cose che ci vengono, dalle quali siamo partiti, e queste distruzioni proprio fisiche di territori, queste invasioni, queste guerre continue, e parole che inducono alla guerra da parte di tutti e mai alla pace, che è un percorso più lungo, sicuramente più difficile, ma frastagliato. E le macerie, le macerie che poi escono fuori, che non sono solo quelle visibili, questo ce lo siamo detti tante volte, perché noi vediamo solo le città distrutte, vite distrutte, ma la vita distrutta non è solo, ovviamente, quella poi della perdita fisica, dei parenti, eccetera, c'è tutto quello che tu lasci. Io ho conosciuto persone, e conosco persone che scappano da questi paesi, che hanno delle storie allucinanti dietro. Quelle sono macerie invisibili che ti porti per una vita. Non sappiamo mai dietro, Francesco ne parlavo stamattina con mio fratello, non sappiamo mai dietro quello che c'è dietro le persone, di ognuno di noi. Ci portiamo macerie, allora vorremmo un pochettino analizzare più quelle, non tanto la situazione sociopolitica, delle cose, vorremmo anche, ieri ci siamo detti, di nuovo, nello staff organizzativo, che mi va di dire che sono il 70-80% minorenni. Diciamo. Questa è una cosa bellissima quest'anno, cioè, quindi, ci sono noi un po' più vecchiarelli e poi ci sono tanti ragazzi che saranno con me 15 giorni, sono tutti di 15, 16 anni, 17, che vogliono venire, che mi dicono che aiuto hai bisogno, veniamo con te, questa cosa è straordinaria, perché è proprio la ricostruzione che deve proprio avvenire, scusate che metto in pausa il telefono. E quindi, dico, le macerie non sono quelle che vediamo, ma sono quelle che non vediamo. Nel frattempo si compongono i nuovi confini sociali, dai nostri cari politici, sentiamo solo toni di guerra, toni violenti, e dico, forse questo festival è un momento insieme per incontrarci, un piccolo festival che ci dice rincontriamoci, parliamo di questa cosa. C'è una domanda specifica che noi facciamo nel festival, ma queste guerre, questi conflitti militari, sono solo voluti da una volontà di supremazia politica o sono anche la degenerazione di scontri per la definizione di nuovi confini sociali, economici, culturali e spirituali, di cui noi ne facciamo parte? Perché noi ne facciamo parte, anche quando parliamo, non andiamo fortunatamente in questo momento in guerra, ma mai dire mai, perché qua insomma le prospettive sono veramente nere, nere da tutti i punti di vista, ecco. Quindi dico, bisogna stare attenti e secondo me rincontrarci e parlarne, fare di nuovo comunità nei territori e porre dei dubbi, delle domande. Ci piacerebbe, dicevo stamattina e chiudo, da questo festival, Francesco, tirare fuori un piccolo manifesto da consegnare mai magari alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e mandarlo al Presidente a dire noi per 15 giorni ci siamo chiusi in questi luoghi e abbiamo parlato di questo e abbiamo pensato a questo. Cose concrete, perché tante volte i festival si fanno, finiscono lì, grandi successi, tutti i festival hanno questi grandi successi, eccetera, eccetera. Noi vogliamo l'insuccesso, ma uscire fuori anche con dei documenti reali che poi tutti possano sfruttare. È la prima volta che sento parlare un direttore artistico di un desiderio di insuccesso. Questo è meraviglioso, diciamo, e come dire, denota anche la cifra, come dire, dà l'indicazione della cifra, diciamo, e dell'ambizione di questo festival che parte, tu dici, dai luoghi. Ci racconti innanzitutto quali sono i luoghi e soprattutto l'elemento principale che è, come dire, il motore anche sin dall'inizio del tuo festival che è la terra, la terra e il ritorno alla terra. Tu continui a rivendicare il fatto che è necessario rimettere le mani dentro questa terra e poi ci parli del territorio, diciamo, di questi eventi. La terra come luogo da abitare e non come confine da segnare, la terra come campo di fioritura e non come deposito inerte di macerie, la terra come luogo di incontro e scambio tra le diverse culture, la terra come spazio libero e indefinito di inclusione, la terra come massimo comune denominatore della nostra esperienza umana, terra di tutti, Francesco, e terra di nessuno. Mi piace che ti chiami pure Francesco, tu capito? Oltre i confini e le macerie, questa è la parte finale del nostro manifesto. Questo è un ritorno alla terra in questo senso, perché la terra? Io provengo da un territorio, vivo a Napoli, ma ovviamente sono siciliano, e provengo da un territorio, il centro Sicilia, che è stato sempre in qualche maniera dimenticato. Non te lo dico abbandonato perché ci sono tante realtà che vivono, che cercano di... Però dimenticato. Basta il turista, se gli domandiamo del centro Sicilia, ne saprà pochissime, sa meglio ovviamente il mare, eccetera, eccetera. È un territorio ricchissimo, ricchissimo di storia, ricchissimo di agricoltura, ci sono un sacco di aziende agricole che fanno di tutto, con realtà bellissime all'interno dei territori. Ci sono colline meravigliose, abbiamo una storia mineraria fortissima, è il luogo di castelli, il centro Sicilia ha l'agglomerato dei maggiori castelli, in uno di questi andremo a fare delle cose. Cioè sconosciuti, il turista è anche un invito a dire venite da noi, perché ci sono dei luoghi, un po' se vogliamo, è dove è nata la Sicilia, con questo pugno di terra lanciato nel Mediterraneo ed è nata la Sicilia. Le prime popolazioni erano le nostre, erano quelle del centro Sicilia, i sicani. Cioè lì ancora potete veramente vedere la Sicilia come era un tempo. Passateci, passateci del tempo, ascoltate le storie. È un po' il lavoro che Franco Arminio sta facendo dalle sue parti. È uguale, io ho avuto la fortuna di incontrarlo, abbiamo parlato proprio di questo. E noi partiamo da questo centro Sicilia. Quest'anno partiamo da luoghi messi a disposizione da privati, perché i comuni dormono, dormono allegramente, sogni tranquilli e sereni, e lasciamoli dormire, che va bene così. Uno solo, il comune di Delia, ci tengo a citarlo, è 120 passi avanti, perché ci mette a disposizione strutture, capisce, già mi parla degli anni prossimi, già mi domanda, ma l'anno prossimo... Ecco, se non parte dal pubblico, insieme a noi privati, a mettersi insieme, a scazzottarci, a capire come fare, capito? Cioè, facciamo cultura, tentiamo di fare cultura, che vuol dire coltivazione. Cultura è quello, è buttare semi. E vedere dove... Noi che abbiamo campi bellissimi, dovrebbero crescere in maniera assoluta. Quindi saremo, in una prima parte, i primi di luglio, partiamo con la tempesta di Shakespeare. Se tu mi permetti, io entro velocemente anche nel programma. Assolutamente sì. Che poi possono vedere sul sito e guardare un po' tutto. Ci buttiamone in questa tempesta, perché? Ma perché è un testo che parla di confini di potere, quello viene cacciato via a Prospero, proprio perché dovranno conquistare il potere. Ci sono i confini dell'amore, questo amore suo per il territorio di Milano, ma suo per la figlia, Miranda, che cresce, è suo per la terra che va in qualche maniera quest'isola del Mediterraneo dove va. Quindi la tempesta ci sembrava, con il mio laboratorio, uno dei miei laboratori, ci sono più di 30 attori in scena, di metterlo proprio per dire inauguriamo con sta tempesta, cominciamo a smuovere. Francesco, lo inauguriamo al tramonto. Quando le macerie cominciano è... E chiudiamo il festival all'alba. Questo è un segnale che vogliamo dare proprio sul festival. Lo apriamo in una masseria che è a Caltanissetta, bellissima, un ex convento che ci hanno messo a disposizione, la masseria Santa Barbara. Poi ci spostiamo il 4 giugno in un luogo straordinario, siamo sempre al centro Sicilia a Caltanissetta, il museo Spazio Pitta. C'è questo Pitta Storie, Lorenzo Pazzo Folle, che ha ripreso una casa di sua nonna e ci ha fatto questo museo cielo aperto che solo passarci, andarsi a bere una cosa, ti mette in pace con lo mondo. Un luogo bellissimo, straordinario. Lì avremo il piacere di avere Maurizio Pagliassotti, questo Folle che ho conosciuto anche tramite Grazie a Te, lo dico pubblicamente, con il quale ci siamo scambiati in un incontro delle idee, eccetera. E ora camminiamo a pari passo, è un autore in Audi che ha scritto La Guerra Invisibile. Questo Folle si è fatto 6.000 km a piedi da Trieste, si è fatto tutta quella parte per andare nella rotta dei Balcani, solo con uno zenetto. Ci racconterà tutto questo. Avremo Nadia Chibu, che è un'attrice franco-algerina, nota in tv per tante fiction, attiva su questi temi, nonché mi accompagna di scena poi il cinema con cuore nero. Quindi la verrà presente, farà anche un laboratorio per la città l'indomani. E il 5 luglio invece andiamo a casa di lega ambiente Caltanissetta. C'è un piccolo spazio, ci metteremo lì con il professor Sottile di Slow Food e il professore Di Martino, Michele Di Martino anche trammaturgo, insieme a Marisa Valzoni discuteremo sul mito della terra madre di Gea. Quindi ci saranno vari punti di vista e dopo faremo un pochettino, staremo insieme con un piccolo aperitivo e un po' di musica, un 20 minuti col tramonto che scende, una cosa straordinaria, sempre a Caltanissetta. Poi ci spostiamo a Delia, in questo piccolo comune virtuoso, andatevi a vedere la storia di Delia e del suo sindaco, che è straordinaria, dove gli assessori sono tutti poppanti, io li chiamo i poppanti perché sono veramente piccolissimi, ma sono straordinari, hanno una marcia in più. Ecco, forse le amministrazioni le dovremmo dare tutte a loro, ci dovremmo tenere. Francesco, non mi piace più neanche questa espressione, direttore artistico, perché la vedo, diciamo che con un po' di esperienza che ho, diamo delle idee, ecco, mettiamo delle idee in mente e magari abbiamo una guida solo così per dire dove potremmo andare. Lì saremo di mattina all'alba per scoprire i confini del corpo dove vanno, dove volano, in volo, con questa bellissima performance di Alba Bifarella della Flaidenza, una scuola di Caltanissetta, straordinaria di pop e di danza, contemporanea, che fa oltre 220 allievi. Poi mi dite in Italia chi ha questi numeri, perché io conosco la realtà, 220 allievi in un territorio come Caltanissetta, quindi ti faccio capire di cosa stiamo parlando. Lei all'alba aprirà questa giornata di domenica 7 luglio, ci ricontriamo nel pomeriggio sempre sotto il castello Arabo Normanno, che stanno ristrutturando, riprendendoli in questa pianura bellissima, dove incontriamo Piero Cavaleri e Nunzia Caricchio, che ci parleranno, discuteranno su oltre i confini dell'amore. Quindi un discorso benissimo, non si poteva chiudere con il simposio di Platone, la ripresa del contista Gaspare Balsamo, straordinario amico, fratello, attore trapanese e contista, uno dei maggiori contisti, l'abbiamo visto nel film della Taviani, che chiude questa prima parte. Poi ci trasformiamo a Bronte, nel Catanese, in questa azienda agricola Musa, un luogo straordinario, dove accarezzi l'Etna, con 25 posti letto, 10 ettari di terra, cavalli, e lì ci chiudiamo per tre giorni, tutti quanti, lo staff, gli artisti, per parlare nuovamente con Maurizio Pagliassotti, per vedere questo bellissimo spettacolo armo, di questa compagnia calabrese, che ci parla delle migrazioni, delle stragi di Cutro, della Calabria. Loro sono calabresi e da anni si occupano di queste cose, quindi in chiusura. L'indomani siamo con Cristiano Cavina, grandissimo autore, con Nuo Tropico, insomma ci parlerà delle tragedie, del clima sulla terra vissuta in prima persona, dopo gli alluvioni, ci regalerà un bellissimo laboratorio di scrittura creativa, ci regalerà, lo sottolineo, ci regalerà, regalerà ragazzi, ci regalerà ai doni, quando sono importanti, lo incontriamo nel pomeriggio, la sera facciamo questa bellissima sperimentazione, in cui ci sarò anch'io, su questa città invisibile. Noi e il Conservatorio di Palermo, con i suoi maestri, per citarne alcuni, Giovanni d'Aquila, Marco Betta, che hanno composto queste meravigliose musiche, con un testo che stiamo ancora lavorando, in lavorazione, ricerca Francesco di questa città invisibile della pace, che c'è, non c'è, non lo so, e forse la rivedremo all'alba, di giorno 13, quando chiudiamo questa prima parte di festival. Sono un direttore artistico ricercatissimo, come sentite, dopodiché chiudiamo e ci rivedremo invece a settembre tra la Napoli, con una cosa che stiamo ancora chiudendo e sarà una sorpresa, e poi chiudiamo la cittadella di Assisi con D'Antonio dell'Olio, in una data ancora da definire, ci sembrava da Francesco, insomma a San Francesco, chiudere secondo me in maniera ottimale, con un momento conclusivo di raccolta di quello fatto, e magari con un piccolo momento. Ci tengo a dire, e chiudo Francesco, spero di averlo illustrato abbastanza bene, di aver animato anche chi ci sta ascoltando, a dire, ma se siamo in Sicilia, oppure non l'avevamo in programma, andiamo e caliamo, andiamo ad abbracciare Aldo e i ragazzi. Chiudiamo questo piccolo festival, che volutamente, tu sai come ci ho lavorato, non cerca i grandi nomi. non è un festival fatto per grandi nomi o solo per spettacoli, proliferano i festival, meglio così, che ce ne siano sempre di più, ma sono tutti bene o male con lo spettacolo del grande nome che arriva, noi i grandi nomi non li vogliamo, cioè se ci vogliono i a trovare, ne siamo contenti, noi siamo piccoli, vogliamo lavorare nel piccolo, però vogliamo offrire grandi momenti culturali e di incontro, questo sì, questo lo stiamo puntando su questo. E allora ci tengo a sottolineare, io non ho voluto, insomma questa volta, in questa conversazione con Aldo, diciamo, interferire dentro questo, vi siete resi conto, cari telespettatori e ascoltatori, del flusso di energia, di emozioni, di idee, insomma di testa che c'è, di cuore che c'è dentro l'organizzazione del festival per un pugno di terra. Il programma è molto denso, è molto appassionato, è appassionante, i luoghi ve li ha raccontati con grande trasporto a Aldo Rapè, insomma ci sono questi appuntamenti anche di dibattito che sono, insomma hanno un cappello generale, ci tengo a sottolinearlo, che si chiama Oltre i luoghi comuni, quindi si va dentro le questioni in maniera molto approfondita con degli ospiti straordinari. Questo e moltissimo altro sul sito primaquinta.com rispetto alla seconda edizione del festival per un pugno di terra che comincia lunedì a Caltanissetta ma poi ci si sposterà dall'altra parte a Catania, Bronte. Allora Aldo, intanto grazie davvero tantissimo per il tempo che ci hai dedicato, buon festival e speriamo di incontrarci presto. Francesco, chiudo solo con una preghiera di due righe che voglio fare che è all'interno del manifesto. Possano le mie parole, Francesco, essere in armonia con l'intero universo, contribuire alla sua giustizia, a crescere la sua bellezza ed essere pronunciate in libertà così che la pace possa diventare più vicina al nostro mondo. Amen. Non sono parole mie di Raymond Pannica. Buon festival a tutti e buona vita a tutti e vita straordinaria a tutti.